Grazie ragazzi, per la Coppa Italia, siamo qui, contro la Lazio, dobbiamo scattare ragazzi. No, cosa ho sbagliato, siamo qui qui per la carriera con gli iscritti. Oh, che cosa hai fatto, Nunzio? Filipe Anderson, Filipe Anderson, fermatelo, bravi, bravi, vabbè, sto in Serie B, per la Lazio è facile battere una squadra di Serie B, quindi se io vinco contro la Lazio, che è in Serie A ed è impossibile, tipo, l'anno prossimo, assieme alla carriera, io già sto in Serie A, quindi per me già sarà facile. Stanno già in Serie A, chi è che deve fare 90 punti, 10, vada punti, 1 a 0, bravo Gabri. Ci sto, raga. Bravo, dei Falc. Ecco, bello, abbiamo preso la carriera laterale, eh sì, è buono, Jotix cross per Gabrielixi, doppietta. Eh, mia, Jotix e Gabrielixi, loro fanno tanti gol. Raga, io ero a 14 gol. Ora, non so quando sto, forse Gabriel mi ha superato, ma non so. Non lo so, raga, quindi... Sì. Va fare pure un gol lui, eh. Tanto non stiamo a vincere. Basta che vinciamo. Aia. Ma è Lazio? Sì, sì, è così. Sì. No, però... Fermatelo! E' un po' Gerardo no Eh raga E' buono così buttiamola sempre avanti Ui buttatela Oh Mamma mia Anunzio Non è sicuro Splendina parata in tutto Palla in alto Cormer per la lancia C'è un buon anticipo Buono l'appoggio Biglia Lo legge C'è cambio in pista per la strada americana Ovviamente l'avore non è soddisfatto La schiera di un campo suoi Allora finisce fuori C'è la sua seduzione Casa Lazio Facciamoli giocare ragazzi Non posso mai segnare L'allenatore della squadra di Gata Sta per effettuare cambi Nella sua formazione Secondo me La scelta è giusta Dal momento giusto Ottimo intervento Tantico di seguito Non cambiamo Continua in tiki-taka Alla ricerca del momento giusto Palla pagano Cerca la porta Mano che resiste Pallone che è ancora in sotto Pallone che è ancora in sotto Pallone che è ancora in sotto Comoda Uscita nel portiere Palla pagante Adesso Tazio che trova a raterci pericolosa Con questa palla Punta la porta E' uno specialista di questi inserimenti Alla strada delle persone Questa volta Scantati in atticio Ci sono i fischi Dei tifosi di Gata Però ne continuano a perdere di tempo Io capisco ovviamente La ripresa del vantaggio Qua stanno un po' esagerando Stanno rallentando Stanno rallentando volutamente La ripresa del gioco Un'interruzione E' stato un sostanzioso La recupera Bravi qui A bloccare tutto Morrison Ancora cinque minuti da giocare Si riprenderà con la ripresa Sì ragazzi Siamo in quarti di finale Po 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 E' Jerry Oh Oh se il finale esce la Lazio Bellissimo Siamo contro Il Genua Ai quarti Bella raga Il video finisce qua